La Juventus migliore per battere il Frosinone ed arrivare al meglio alla sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. Non ammette cali di tensione Massimiliano Allegri pronto ad affrontare i giallazzurri di Marco Baroni nel testa-coda che aprirà la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Fuori lo squalificato Alexandro, turno di riposo per Matuidi a centrocampo. Dubbio Rugani in difesa dove ci sarà dal primo minuto Bonucci. Niente da fare per Perin, tra i pali, gioca Scesni. La formazione antifrosinone sembra fatta, nessun esperimento tattico e scelte che cadranno sui migliori. Chi è in linea ormai pronto e probabilmente giocherà uno spezzone di gara per presentarsi al top all'appuntamento di Madrid di mercoledì. Barzagli è recuperato ma andrà in panchina. Rugani, in dubbio per un problema muscolare, si gioca con Caceres il posto da centrale con Spinazzola a sinistra ed uno tra Cancelo, favorito, e De Sciglio a destra. In mezzo al campo Emre Can, Bentancur e Chedira. Davanti giocano Dybala, Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Anche in questo caso, nessun dubbio. Finora è sempre giocato perché non dovrebbe giocare domani.